Sì, mi ricordo più che con immigrati, con Sud Italia. Il progetto è di 900 mila euro per la ristrutturazione dell'intero Stato, 900 mila. Ha due stranci, il primo strancio è 520 mila, già finanziato, una parte dalla fondazione, una parte dalla regione, dovevano iniziare i lavori, iniziare le gare da parte, a primavera. Ci sono che magari veramente noi valorizziamo sufficiente. Tra l'altro anche noi, quando discutiamo di politiche sanitarie, spesso discutiamo quasi esclusivamente degli ospedali. Esatto. Come tutti i corsi dell'ospedale, dove la gente entra in parte della vita. Ci sono fondamentali i servizi territoriali, perché i servizi territoriali sono, anzi, poi sempre quelli più vicini ai cittadini e danno delle risposte enormi. So after all said and done, I know I'm not the only one, life indeed can be fun, if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems, you wanna fly around the world and like a beautiful balloon. So life or life, oh life, oh life, oh life. Life or life, oh life. Life or life, oh life. Ciao, ciao, grazie, buon lavoro.